Se c'è una parte di Costituzione che parla dell'autonomia differenziata è proprio in virtù di una modifica della Costituzione che ha fatto il PD nel 2001. Perché questo è l'assurdo. Cioè noi stiamo applicando una Costituzione che è stata modificata dal PD, che è lo stesso PD che oggi si lamenta. Lei capisce che qualcosa non torna. Ricorda la genesi della riforma del titolo quinto della Costituzione Luca Zaia, ospite del direttore Luigi Bacciaglia Focus. Lo fa perché la battaglia politica sul testo presentato in Consiglio dei Ministri ora è totale con i governatori del PD che lo bocciano senza appello, compreso Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, che fino a poco tempo fa sembrava invece uno dei migliori alleati proprio di Zaia nella battaglia autonomista. Da un lato le primarie DEM, dall'altro le imminenti elezioni in Lombardia hanno balcanizzato le posizioni, ma essere spaccata non è solo la politica dei partiti, pure i territori, nord contro sud e viceversa. Come dice il presidente Zaia, è paradossale che siano i sindaci del sud a lamentarsi dell'autonomia quando oggi in realtà si stanno lamentando di un sistema che secondo loro non dà risposte. Evidentemente questo sistema che non è caratterizzato dall'autonomia, così non funziona. L'autonomia significa maggiori responsabilità e maggiore attenzione negli investimenti e nella gestione del denaro pubblico. Resta il fatto che quella che si è aperta a Roma sarà una lunga maratona. È lo stesso articolo 3 del disegno di legge al primo comma a dire che ora serve individuare i LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazione, con i relativi costi e fabbisogni standard. Questo significa contabilizzare tutte le voci di spesa per ogni singola competenza, un'operazione faraonica mai fatta nel paese. Soltanto dopo si potranno siglare le intese Stato-Regioni e qui ciascuna potrà decidere quante materie chiedere fino alle 23 consentite dalla Costituzione, non solo. Una volta che la Regione ha deliberato quale materia vuole, si fa un accordo di intesa, quella intesa passa alla conferenza Stato-Regioni, va in aula una prima volta, torna con eventuali cambiamenti sia in Regione che al Governo. Cioè c'è un Italy che è complesso ma ha garanzia che tutto venga svolto nell'assoluta trasparenza. È tutta demagogia quella della nazione spaccata.